Avvocato milanese, funziona il Super Green Pass? Ma dipende, il problema non è se funziona. Secondo me il problema, secondo noi insomma, che ci contestiamo questa misura, il problema è i danni che provoca il Green Pass alla popolazione. Innanzitutto alimenta l'odio sociale tra i cittadini, provoca discriminazione tra i cittadini. Questo è un grandissimo problema che non viene sufficientemente analizzato perché non ci sono, per ogni misura ci sono pro e contro. In questo caso noi vediamo prevalentemente contro, sono violate norme fondamentali dell'ordinamento e anche norme fondamentali dei trattati internazionali. Ci sono dei principi che attengono proprio alla civiltà che sono stati totalmente calpestati con queste misure. In Parenza ho una domanda per Zocco milanese, non mi ricordo chi. Per l'avvocato milanese, se è possibile, perché l'avvocato, che è un giurista, ha usato dal mio punto di vista una parola orribile che è discriminazione, che nel linguaggio giuridico la discriminazione ha un significato molto preciso. La discriminazione è quella che nel 1938 lo Stato fascista fece nei confronti degli ebrei, ad esempio. Qui siamo in uno Stato democratico in cui ci sono gli organi di garanzia, c'è la Corte Costituzionale, c'è un Presidente della Repubblica e ci sono un gruppo di persone, una minoranza, che ha deciso, questa è la domanda, di porsi fuori. Cioè ci sono 7 milioni di persone che legittimamente, perché non c'è l'obbligo, hanno deciso di non vaccinarsi, ma l'hanno scelto loro. Quindi non c'è alcuna discriminazione. Gli intellettuali, l'avvocato, che è un giurista, il professore universitario in filosofia, hanno delle responsabilità quando parlano in televisione. Tutti possono vaccinarsi. Non è riservata una determinata... Tutti possono parlare, possono dire idiozie, ovviamente, perché la democrazia tutela anche gli idioti. Non c'è discriminazione perché tutti lo possono fare. Tra l'altro gratis, a spese dello Stato. E questo è il punto. Milanese, zocche, poi andiamo da Padre Benanti e da Milano. Prego. Allora, la discriminazione non sta nel fatto che tutti possono vaccinarsi. La discriminazione sta nel fatto che ci sono stati sottratti dei diritti costituzionali per poi essere restituiti sub condizione. Quali, avvocato? Quindi i nostri diritti, il diritto al lavoro, il diritto all'istruzione, il diritto alla partecipazione alla vita economica e sociale della nazione, che sono diritti innati e naturali dell'uomo, sono stati sottratti ai cittadini per poi essere restituiti solo sotto la condizione del ricatto del ricatto di Stato del vaccino. Avvocato, lei purtroppo è poco informato. Ma lei, aspettate, aspettate, uno per volta, avvocato. No, è lei che non è informato. Avvocato milanese, mi perdoni. Se posso parlare? Sì, le pongo la domanda che le stava ponendo Parenzo. Però perché, dice, l'è stato sottratto? Se fa un tampone, neanche se si vaccina. Se solo fa un tampone, può salire. In fondo ci sono tante attività che sono soggette... Perché sono diritti innati, sono diritti naturali. Noi non abbiamo mai dovuto pagare un pedaggio per poter andare a scuola o per poter lavorare. Non è mai successo questo. Adesso viene un posto ai cittadini di dover si sottoporre ad un trattamento. Il biglietto dell'autobus... Quanto meno il biglietto l'ha dovuto pagare, avvocato. Aspetti che sentiamo anche il professor Zoc. Ma il biglietto dell'autobus per accedere al servizio, ma non un onere aggiuntivo rispetto a quello. C'è una bella differenza. C'è una bella differenza. Questa è la discriminazione. Dice... Allora, il professor Zoc, dal punto di vista delle categorie, le giro il dubbio che diceva Bruno Tabacci. Dice, ma può esistere un diritto al contagio? Professor Zoc, poi andiamo da Benanti, da Milano... Sì, allora... Sileri, prego. E la professoressa ci deve ancora spiegare una cosa. Certo, naturalmente... Prego. Sì, naturalmente non c'entra nulla il diritto al contagio. Sì, naturalmente non c'entra nulla